Si è evoluta così la situazione, c'è un ponte, sotto ci abbiamo un metro d'acqua e sembra una boscaglia, la piazza di là non esiste più, il paese è pieno, ma c'è bene che ha fatto un muro di legno che per fortuna è un po' salva e noi stiamo nettamente riempiendo, è saltata la luce, non funziona più cazzo, ci entra acqua da tutte le parti, si passano legni che sono una cosa spaventosa, io ho paura che non me ne torno più a casa, ma vabbè, guarda di qua nel paese, guarda dove arriva, madonna, madonna, Nel 94 non ci eravamo, ma non avrei voluto mai vederla una cosa del genere, veramente, una delle cose più brutte che ho mai visto in vita lì, non so se mettermi a piangere o no, non lo so, vabbè. Questa, ormai siamo al buio, completamente al buio siamo, andiamo a vedere di sotto com'è, là, sembra l'acqua fan di Riccione ormai ho più che il tannaro, qua abbiamo di tutto, Non ho paura a scendere a vedere dove l'acqua, la luce è andata completa? È partito salvavita, è andata. E non migliora molto da prima, qua. C'è il dispositivo che ci sta piovendo in cantina, anche quello è molto bello. Sì, andiamo a vedere anche il Deore, come è messo. Ah sì, dai. Ah, c'è una fontana, la fontana delle Maraviglie 2. Qua, sai Giulia che non ne usciamo più? C'è una gomma però se vuoi, se ti serve la gomma di una macchina, un vidone distrutto. Forse è ora di andarcene a casa.